aveva fatto una promessa campionissimo ne fai quattro guarda mo che ha detto no solo due perché tra l'altro ha preso una spinta qua ah se ho passato alla terza va in discesa dopo senza fine ah non lo sapevo però vai Claudio pronti campionissimo campionissimo Tiberio Manani a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.